Grazie Maurizio, un buon peniccio a tutti anche da parte mia. Dunque ovviamente non sto a riprendere i temi della digital disruption, le definizioni che sono già state date. Ho promesso a Maurizio di fare una sola slide per far vedere un po' qual è la strategia e le direttrici di Oracle per la digital disruption e per i partner e l'impatto che questa ha sui partner, che è la cosa che ci interessa, che a me almeno interessa di più. Io volevo fondamentalmente, quindi abbiamo rappresentato come un'onda, come una grande onda, che occorre cavalcare oppure si viene travolti. Volevo dire una cosa per tutti, non è uno tsunami, non è un'onda da cui non se ne esce, è un'onda che sprigiona energia, è un'onda che spariglia, è un'onda che con questa energia ci permette anche di ripartire per chi investe nella direzione giusta, e qui è il tema, chi investe nella direzione giusta, di fatto porta a eliminare status quo e a avere vantaggi competitivi. Vedete in basso a destra, ho cercato di dipingere con questo pallogrammi, un po' quello che probabilmente non si legge perché è piccolo, è un po' la situazione dei partner, dell'ecosistema dei partner. Una volta era molto più semplice, c'erano le alleanze, i sistemi integratori, i blasonati e c'era il canale. Invece quello che sta avvenendo oggi è che questo mondo dei partner non è più lo stesso. Adesso poi vedremo anche che con il cloud, adesso vediamo queste direttrici, quello che sta avvenendo è che i sistemi integratori vogliono rivendere, vogliono rivendere perché vogliono fare un one stop shop, vogliono essere, anche se rivendono una tecnologia cloud applicativa di un terzo, di fatto vogliono porsi davanti al cliente, vogliono rivendere, cosa che in passato non hanno mai fatto. L'altra cosa è che vediamo invece che i VAR, quindi il canale tradizionale, vuole crescere e trovare nuovi spazi per i servizi, per la competitività. Detto questo, questo è importante perché quello che sta avvenendo è che bisogna avere skill diversi. Vedete che in alto vedete digital agency, digital agency, non so quanti digital agency ci sono qui tra voi, ma di fatto è una nuova tipologia di partner che si indirizza non più all'IT, ma si indirizza alle linee di business, tipicamente al marketing, e molti dei grandi player, i grandissimi player hanno o acquisito o hanno il proprio interno delle società di digital agency, o altre invece si alleano, quindi la catena del valore fa sì che aumenta la competition, aumenta tantissimo la competition. Volevo a questo punto farvi vedere quelle che sono le direttrici di Oracle. Molto semplice, la prima è quella che noi chiamiamo SaaS, ovvero il cloud applicativo. Sta cambiando il modo di portare le applicazioni sul mercato, non ci sono più i grandi progetti con le grandi customizzazioni, a questo punto le applicazioni vengono portate attraverso in modalità cloud. Voglio dirvi una cosa qui, ci sono tantissime società che hanno il cloud applicativo, ce ne sono diverse, ma sono molto circoscritte. Di fatto quello che avviene per noi, il cloud applicativo, siamo partiti due anni e mezzo fa qui in Italia, sta raddoppiando il numero di clienti anno su anno ed è l'area dove abbiamo oltre 35 applicazioni, diciamo la più vasta offerta. Chi è di questi patri, quelli che ne beneficiano? Chiaramente sono tipicamente i sistemi integrati, sono quelli che di fatto devono cambiare pelle, anche loro malgrado a volte, e devono in qualche modo portare sul mercato applicazioni in una modalità cloud e non in una modalità tradizionale. Voglio solo dirvi una cosa, per Oracle il business del mondo applicativo, il business del cloud ha superato il business dell'on-premise, che è una cosa che fa pensare. L'altra area, si è parlato di sviluppo software, l'altra area, una cosa voglio dirvi sul business applicativo, il punto è questo, ma è un'opportunità incredibile per i VAR, perché di fatto c'è una sorta di democratizzazione, ovvero anche le aziende più piccole, quindi anche i digital disruptor, possono avvalersi delle tecnologie di classe enterprise. Io all'IRP on cloud, a questo punto, anche un'azienda piccola può avvalersi delle stesse tecnologie di aziende più grandi, cosa che in passato non era vero perché c'era una barriera di ingresso, tipicamente legata all'on-premise. L'altro elemento molto interessante è il platform as a service, il platform as a service è per chi sviluppa, si è parlato prima, il collega di Citrix parlava di che si sviluppa tanto sul cloud, qui è importante la parte di sviluppo, ovvero il middleware come servizio, perché permette, abbatte anche qui, i costi di ingresso per chi sviluppa. E l'offerta, qui c'è un'offerta anche qui ampissima sulla parte del middleware, ma fatemi dire che i due elementi centrali sono da un lato Java, e da un altro lato Java as a service, chiaramente, e dall'altro lato il database Oracle as a service. Questi sono i due elementi centrali, che di fatto possono essere acquisiti e utilizzati a consumo, cioè, vale a dire, io lo acquisisco e l'utilizzo a consumo, che se volete è la novità più grossa. Chi ne beneficia di questi? Sicuramente tutti quelli che vedete in alto, gli independent software vendor, quelli che vogliono sviluppare, che anche loro vogliono proporsi come cloud service provider, e ne beneficia anche, chiaramente, i sistemi integrator che vogliono estendere, questa volta, in maniera non all'interno delle applicazioni, come si usava a fare una volta, rendendole, diciamo, creando una serie di rigidità, ma all'esterno estendendole e potendo, a questo punto, creare delle estensioni, delle verticalizzazioni, quindi a valore sulle applicazioni di Oracle o di altri. Digital platform è importante perché tutto il middleware, in questo caso on-premise, che è lo stesso di quello che è sul cloud, ma è interessante perché ci permette di creare il cloud ibrido. Ecco, è importante perché qui siamo tutti a dirci che il cloud sarà ibrido per i prossimi anni, sui grandi clienti, il sistema, diciamo, sarà ibrido per i prossimi anni a venire. Però bisogna fare attenzione a una cosa, il rischio qual è? Il rischio è di ricreare, e di ricreare, diciamo, gli spaghetti, gli stoff pipe, come si usava a dire una volta, vale a dire che nel momento in cui il marketing manager ha acquisito un'applicazione e la deve in qualche modo integrare, l'altro ha acquisito un'altra e così via, a questo punto è ingovernabile quello che ho e se non lo metto in un concetto di una piattaforma che attraverso un enterprise service bus, attraverso, diciamo, delle tecnologie di suite, SOA e così via, la rende modulare e mi permette di togliere e aggiungere dei moduli, io di fatto andrò attraverso qualcosa che poi dovrò completamente rifare. Questa è la parte per i grandi clienti che è più importante. Chiaramente qui sono i sistemi integrator, gli outsourcer, ci sono tutta una serie di società che sono interessate a poter dominare, avere gli skills su quest'area. Quarto punto, il quarto cambiamento che sta avvenendo sul mercato è il cambiamento legato all'information management. Una volta il relazionale, diciamo, è quello che è di riferimento sulle aziende, ma oggi sempre di più stiamo a parlare diciamo di dati Hadoop, Big Data, parliamo di dati NOSQL, sui social e così via, quindi da un lato l'analytics si privilegia da un altro lato il livello di interazione mentre sul relazionale che resta comunque l'elemento centrale è la parte operational. Ecco, qui è importante dire che di fatto è importante lasciare i dati, avere tutte queste forme di dati e poterli utilizzare in maniera aggregata. Lasciare i dati dove sono, non cambiare, non spostare, io porto l'immemory al dato, non è che devo trasformare il dato per poterlo utilizzare in memory. Questo è un po' l'area più importante. In ultimo vorrei parlarvi del data center dicendovi questo, quello che sta avvenendo sul data center, su questa tavola del data center, è quello che noi vediamo il data center chiaramente che l'esplosione dei dati sta portando da un lato ad avere un data center sempre più con dei workload, fatemi dire, generici e quindi si parla a questo punto di una parte core dove si utilizza la virtualizzazione nel modo più ampio e dove di fatto vado sui sistemi industri standard. Dall'altra parte, questa esplosione di dati mi ha portato a dover avere dei sistemi specializzati verticali che mi creano dei sistemi mission critical e dove l'efficienza e la alta disponibilità di questi sistemi per me è fondamentale sull'azienda. Quindi, e qui chiaramente ci sono tutta una serie di opportunità nuove per i VAR e per i system integrator e per dare anche dei servizi che possono essere servizi di disaster recovery, servizi di backup, servizi, io posso creare tutto un nuovo mondo di sistemi. Noi riteniamo che queste sono le cinque, non sono tutte chiaramente, però le principali strumenti, le principali tavole che bisogna utilizzare per poter cavalcare la digital disruption. Quale di questa? Beh, dipende molto, qui abbiamo fatto un esempio su questo palogramma di varie tipologie di partner, quali voi siete, dipende molto da dove si viene e dipende molto da dove si vuole andare. A questo punto, in funzione di quello, io potrò andare a utilizzare una di queste tavole o più di queste tavole per poter cavalcare la digital disruption. Vi ringrazio per l'attenzione. Maurizio, se vuoi. Grazie.